bella calottari bentornati qui Yoshi e come ogni sabato ci andiamo a vedere i team ice and fire che sono usciti nuovi team in attesa dei toti nel mentre forse in questo punto qui vi sparo i pick icon che abbiamo riaperto che si sono ricaricati ieri fammi sognare fammi fammi vedere sto p mamma mia c'erano altri tre coglioni c'erano altri tre imbecilli ah è 87 è già scelto guarda come l'ha posizionato è scelto è scelto mo l'apriamo con questi così no no ma apre e basta apre e banto nascondi e ce cagano dentro fai e bet e ce cagano dentro e allora pia apri mamma mia che cessi stratosferici ma che pippe de novo desa li ha la sesta volta che moda non lo voglio non ha capito il gioco tre tuono pires scolse e tre se pires non è certo non costano un cazzo cioè la fine desa li costa più da la sfida se ci pensi ne è andata così male però c'ho maldini c'ho tutti i centrali mamma ma quando cazzo c'ho giocato mezz'evo ma quando gioca desa li beh però meglio da nedved riker me in rush ti posso dire sono uscite due evo però so poca roba tocca avete bene le combo cioè devi partire da lì devi partire ma riker me in realtà pure nedved entra nell'evo dell'icona dovrebbe entra ho speso 4 euro per walker e mi ha dato cafù e neanche li può mettere insieme perché cafù non fa fa td anzi ada come ruolo però beh se te l'ho convocato potrebbe mettere 20 vista la gestione che sta a fare da due anni che boh pare covole morto per quanto lo fa giocare quando sta in forma io qua forse grazie per i 52 bentornato io prenderei zola che puoi evolvere ma che ha fatto a fare meno che non vi serve per linka l'unico giocatore del tottenham oddio c'è pure quel cluseschi però vabbè se vi serve per linka son io lo lascio lì mi farei muller ma mica per niente ma perché un ber 92 nel builder è sempre buono beh valbo non è manco troppo secondo me quel 200k visto i link ha visto il giocatore sono per giocatore anche buono c'è più di balla gli spari tutta roba lo difende pure bene guarda una bella cartina quel gavi c'ha c'ha pure buon c'ha pure buona finalizzazione in realtà 5 de debole 93 posizionamento ma 97 visione con 98 de short e 97 lungo non ce l'hanno manchi i toti eh ma questo si muove con 90 de dribbling memmo grazie per i 32 ben tornato chi è non lo so valbo a me è un po' stuzzica buio al barnes e balla balla che entra nella prossima evo e lo potrebbe far diventare un centrocampista dovrebbe entrare poi è sempre in incogna se cambiano all'ultimo in corso i requisiti hanno liccato però potrebbe entrare quindi barnes ormai penso abbia fatto il tempo suo o p balla che poi si evolve o puio al per l'overall non pena 388 o 2387 tutta la vita scegli te io e che cazzo ne so se no dovresti lasciarlo qua parcheggiato però manco se poi in realtà poi sul primo faccio socrates e sti cazzi però 500 500 fifa points 5 euro sai che fanno 200k o 1k 1k dove devi diventare pelè e dove devi diventare socrates però scusa allora grazie ben tornato mi fai il favore di dirmi quando è che sto gioco di merda è diventato Sekiro stanno tutti full codice del samurai triplo turbante chiavi di casa road tu pro player ti punisco al primo errore porco dio voglio lanciare la play da un sovra passaggio autostradale e quando non c'è il try cintura nera c'è il matrix dei gorilloni dell'e che porco dio ti fa perdere otto rimpalle di fila e ti fa entrare l'avversario in porta con la palla senza manco sapere cos'è successo un riassunto perfetto però al momento non riesco proprio a vedere carte che dici wow eh finalmente trovi una carta buona cazzo che quest'anno Enrico i play stai le hanno aggiunto è una carta che se può utilizzare ho capito come te pare comunque se mi arrivi penso senza dubbio però il più alto è l'unico con le gambe qua e mezzo ma da o sterling eh mcmahon a iurente ma non è male certo wear mcmahon a man allora no questa è la squadra mia che è sta roba c'è sto a fallevo a kirchegarde allora ma sai che sono ste due eh eh sì ok prima questo qua ma questo qual è il fire or lice è lento rodri allora per fuoco ok allora apriamo il fuoco così vediamo pure i prezzi mi une questo gli coglioni spero esca toti perché insomma le basi ci sono spero facciano toti ragazzo allora iniziamo da la panca allora le carte allora ci sono uscite robe non troppo costose che si possono provare sicuramente quindi dico ok come al solito giocatori ci hanno ci hanno intese diverse perché mi pare il fuoco dà il boost alla propria nazione e invece il rosso il blu l'ice dà fuoco al proprio club tipo dà intesa al proprio club quindi dà tipo 4 di intesa sul club e invece 5 alla nazione direttamente 2 di slot d'intesa parto sempre a 2 motivo per cui magari li paghi un po' di più però almeno effettivamente ci hanno un'intesa interessata tipo sto counter alto alto razzo d'oro oddio secondo me con mettersino a 15.000 credit ci sta ma è una buona carta lo metti lì far suo abbastanza largo simpatico secondo me buono Gakpo hanno sparato con 5.4 poco dribbli mi sa era meglio l'altro però questo c'ha il power shot i play stai so buoni anche se pochi e Gakpo pure quanto sta a scarto Gakpo 28.000 credit poi abbiamo Rodri l'altra versione secondo me è un po' più interessante questo pure power shot l'unica l'unica cosa sono abbastanza sicuro che costa un milione ed è un palo della luce incredibile cioè quello quello sicuramente è un grandissimo palo cioè poi fa poco c'è giocatori così con 60 da gira si muovono veramente male e l'unica cosa è uno può sperare nel todi di Rodri spera arrivi comunque nonostante la carta nell'evento Rashford 5.3 hanno ricacciato un'altra carta di Rashford giustamente a 2.7 milioni sta al momento per carità bellissima carta c'era bisogno di far Rashford sbroccato se potava un altro che non era mai uscito sbroccato poi abbiamo Reynard Reynard uscita sia DC che CDC con Mastino Plus c'è affronta progione lancio lungo forte di testa e aereo ma in realtà avevo provato le altre versioni la Reynard l'unico difetto era un po' il fatto che fosse leggermente lenta questa continua a non essere veloce come carta però la in game è tanta roba secondo me perché poi il dribbling per essere in difenza centrale è molto buono è enorme in game è gigantesca 93 difesa 80.000 crediti io ho una chance anche se non è velocissima Tomori Tomori sia il DC che il CDC sono clamorosi 600 no 600.000 Rüdiger Tomori 945.000 al momento veramente tanto poi abbiamo João Felix AS 4-5 tiro non in massio però Felix non si muove male c'è un bel body tap si muove in maniera simpatica costo di Felix non c'è Felix ah no 760.000 è un po' tanto cioè più che altro ormai tutti giocano quei non scambiabili dalle icone gli eroi e le evoluzioni più che altro ste carte pretoti io sincero non ne prendere mai cioè se trovate non scambiabili è un conto se inizia a dove comprare roba del genere che costa quasi un milione pretoti ovviamente è no anche perché c'erano troppe alternative valide non mi sembra neanche la carta più forte cioè sembra un'ottima carta se la trovi non scambiabili la Provis è no bella Lawrence sì non è male è il problema che fisicamente è nulla cioè potrebbe essere anche buona in game comunque la difesa ce l'ha dribbling pure cioè a fronte blocco però boh il problema secondo me è fisicamente perché ormai me ne accorgo quando mettono gli terzini avversari che so piccoletti li distruggi perché metti magari a dama gli metti ma anche se sto usando spinazzola quello nuovo è 1.90 quasi comunque tutte le carte piazzate fisicamente le le travolgi poi abbiamo Rudiger alto alto beh carta pure Rudiger devo dire bella robetta 600.000 credit di carta ho riprovato il base questa settimana scorsa mi serviva per l'incampaglio dei giocatori e si è comportato si è comportato bene c'è il lungo c'è lo split sulla velocità come Van Dijk bella bella robetta pure lui poi abbiamo Coman 5.3 di tutti i play sta loro che votano mente batteria oro vabbè ma costa 2.45 questo pure se potrebbe bro certo ho già finalizzazione c'è un cazzo o metti esterno e via ah ma hanno fatto mancino sto Coman non è destro Coman ma vale Coman è nel destro e poi abbiamo fatto Gavi quello SBC che secondo me tocca capire un attimo Coman è destro infatti tocca capire un attimo costa 220.000 però fisicamente ovviamente Gavi è presto che nullo secondo me l'ice può essere un po' più interessante perché ha il doppio playstyle sui passaggi questo si ha 5 skill però non è che dici lo usi c o c e allora va bene il dribbling è buonissimo per carità però il tiro lascia parecchia a desiderà specie sotto il punto di stata la potenza a tirar vuole e tutto il resto quindi per me se uno se lo deve fa si fa l'altro perché questo qua è più una carta da c o c a cui manca un pezzo il nigno maraviglia 5.4 l'hanno sparato costa sugli 200 170.000 questo oggi si prova sono interessanti incisivo tiki daga tecnico passo veloce talento naturale plus calamita e fine è una bella carta sono molto curioso Sanchez su FIFA sempre regalato minima soddisfazione Richarlison con rapido oro tecnico questo lo sai che secondo me mettiamo ES352 potrebbe regalarci qualche gioia col 70 di contrasti certo tu rileva avers con il whip pass però così per provarlo tanto sta a scarto mi sa Richarlison 34.000 e poi ritorniamo a Gunther andiamo a vedere quelli che sono i giocatori ICE e allora c'è Boga che ha obiettivi che te dirò per essere una carta è regalo non è per niente male 200 ruoli Ligan simpatico Gakpo questa è la S45 con i questo non lo fermi razzo d'oro con quel body type tecnico non lo fermi mai questo infatti sembra sembra simpatico poi più o meno i prezzi sono quelli corrispettivi dell'altra parte fuoco argento Gunther l'hanno fatto a destra con il whip e d'oro qui c'è un Rodri con 86 di velocità tra le altre cose che è molto interessante secondo me infatti Gunther e Gakpo costano praticamente zero questo secondo me pure switchato difensore centrale potrebbe essere questa mattina fa freddo potrebbe essere molto simpatico lancio lungo intercetto mastino il problema costa un milione e mezzo questa è un'altra carta che dovresti scula non scambiabile non c'è mettere mai i crediti sopra sinceramente però l'8091 potrebbe essere tanta roba anche costi playstyle e la cassaforte oro potrebbe essere una grande carta Rashford sempre 5-3 con la trivela onesto preferisco preferisco l'altro playstyle se devo spendere se devo spendere una robetta incredibile allora Reinhard se devo spendere quelle cifre soprattutto questo Rashford che sa 2 milioni e 2 Reinhard cdc secondo me è meglio il dc sincero non mi dice niente perché altro gli devono bussare più tiri e passaggio perché sì ok costa de meno costa 30 mila crediti 50 mila crediti però mi fai sta carta e praticamente se va a perdere parte pure ancora più lenta mi è workata un po' male secondo me questo Gavi quello di cui vi parlavo che c'ha 91 di passaggio 97 bisogna 98 corto 96 lungo che è tanta roba bel dribbling contrasti 90 intercetto 92 lettura 70 quanto pesa forza 70 pure quanto pesa però alto alto perde il tecnico però c'ha tiki taga lancio lungo incisi oro questo fa dei lanci se volete sparare palloni a cazzo clamorosi Coman questo colpi a te destro 5-3 con l'R1 d'oro Boccoman lavorato inizio ciò col base non mi piaceva tanto poi non so perché fallata ok per provarlo 300.000 o troppi secondo me Lawrence sempre qui passata a destra con affronta oro perché difensivamente non male ma per me rimane valido sempre il discorso del fisico che troppo scarsa fisicamente Tomori carta della madonna 660.000 credit di questo c'è una carta assurda per quanto mi riguarda da switch a difensore centrale ovviamente cioè cdc secondo me ci può anche stare ma questo i passaggi che c'è a te dico no ma difensore centrale affronta oro blocco scivolato c'ha pure forte 88 di velocità dribbling alto guarda che difesa no questo è veramente bello giocato secondo me giocato secondo me dc rudy caridem altra grande carta passaggi un pochettino meglio 3-3 questo 3-4 non mi so carte che poi switch in qualche modo e metti difensore centrale iniziano usci quelle carte che puoi alzare secondo me loro invece sono carte che devi arretrare joe felix sempre qui trivela d'oro quanto gli piace dalla trivela d'oro come playstyle sempre il stesso discorso con felix gran tiro sta versione però 800.000 sempre carte che vai a pagare troppo per quello che ti danno e per quello che c'è in giro e per quello che c'è non scampabile all'interno della squadra alexis sanchez questo sta a 60.000 l'altro secondo me molto più interessante anche da da C.O.C Riccia 4-5 dribbling tiro fisico velocità e secondo me meglio l'ala per semplice fatto che lo può utilizzare pure in maniera un po' più difensiva un po' più dribbling cioè questo si è una bella prima punta però 70 di equilibrio 84 agilità io penso sia un pochettino legnoso poi da provare alla fine costa 27.000 crediti questo se stavo a provare butta a mezzo 4-5 brasiliano Tottenham questi cazzi e poi abbiamo finito abbiamo ok andiamo sulle evoluzioni quelle che sono uscite ieri ve le faccio vedere al volo evoluzioni disponibili hanno messo piede debole skill in teoria ci sta quello del psg barcola tipo che se avete ancora la founder lo potete fare diventare 5-5 con 4 euro e sembra veramente tanta roba oppure queste sono sfide per il futuro nel senso te sblocchi qualcuno tipo io ho visto joe pedro quello del brighton che lo puoi buttare sia qui che qui rimane 79 ovvero il 4-5 con un razzetto come playstyle e poi magari in futuro mi auguro quasi sicuramente vi se l'estas prenderà altri possibili app potrebbe essere tanta roba però al momento proprio carte assurde a parte quel barcola del psg non c'è tutto ciò ragazzi io vi do un bacione come al solito ci vediamo su twitch per la weekend league e ciao 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 ciao